pare ti vedo triste impare come mai volete il canale impare mi era tristata anche a me impare come mai video non mi è piaciuto un bar mi raccomando non mollare non pare con maschettino non abbandonare la nave infatti non sogno comandante pare raccomando comunque ragazzo io sai che c'è tutto il mio autocritico bare palermo cartellino blu basta via ma in bare palermo comunque dopo dieci anni penso di chiudere il canale mi sono scocciato tante cose 1540 reviso cosa ha presentato qua i miei colleghi youtube sono stati tutti onesti a farmi video di solidarietà vediamo anche i miei followers poverini guarda tutti a chiangere in bare tu porti contenuti di qualità e spontanei gli altri fanno per lavoro non mollare capito e poi diciamo in bare e noi non ci pensi 1500 7800 anime non pare non chiude non mollare ignora il bare palermo non ci abbandonare non chiude il canale questo sito ti prego india che sto meschino si misa a chiangere non chiude il canale sei un vero top player sei un grande non chiude il canale sei migliore in bare non va non lo fare sinceramente sei simbato carisma divertente veramente dico te interista c'è anche i ragazzi interisti interisti io li sfutto per ragazzo capisco l'ironia mica che lo offendo bravi tifosi interisti bare non chiude i tuoi mi fanno sempre sorridere sei bravo te lo dico da un tifoso che sei pure interista vieni proprio tu a vedere mio amico calo su youtube che scriviamoci mi raccomando lino io penso youtube mi ricca ragazzi non mollare non mollare per il tuo tema raccomando ai 16 giorni bello cristiano dei mezz'età mischino la facciamo su figli anzi se in genere contro gli anni c'è un libero tuo figlio un bacio da tuo figlio lassù che è un angelo dire chi su camera come compare san antonino bresciano la juventino doc qui quando ragazzi ma quanti quanti commenti di solitarietà veramente un periodo negativo magari eh amico mio un periodo negativo ma è un calvario che è da tre anni figlio mio figlio mio eh lo so un po' tu racconto anche un po' tu racconto non mollare fratello e lo so a gente ragazzi veramente in che si guarda si picchiava la gente più colora di me al momento ma veramente ho avuto anche telefonate che succede oneehe Suscritti che casczywiście un caso aspetta tutti 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 vedi di authority commento vado 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 ahwa taitaitaitaitaitaita i nomali d'ioutube che hanno fatto le l'ecchino in potenza che devo fare vabbè comunque vedere fare un bare in orecco meteristo doveste avere un milione di iscritti finire di Armando kaumres sa dove satellites per me attraverso il tuo problema è che non sei l'ecchino a meno ma meno male che l'hanno capito i miei follower, sei pure interista, meno male guarda, meno male, vedo quanti interisti io vendine pure, capito? che sul canale è un ragazzo che mancava a mille, scriviamaci a suo ragazzo, necro benne questo cale siciliano, c'è anche dice in mare, ma è mare, che dovevi fare io che non ho mille iscritti, no? stiamo a vedere un ragazzo è arrivato da poco su youtube, già la meno vicenda è qualcosa, iscriviamaci a suo ragazzo, necro benne che è bravo questo pure quindi, va bene, comunque ragazzi vi dimentichi tanti commenti di solitarietà, dove è il cappello? cappello, avevi 10 anni i 10 anni di lavoro, capito? e vuol dire, caro cappello accontentati dice, dai a Cesare quello che è di Cesare, è vero comunque in mare Palermo, si autocritica video, blu blu, è esposto per 10 minuti anzi, un altro cartellino blu, in mare fuori in mare, possiamo fare un video così fuori in mare Palermo quindi Roberto Palermo critica in mare Palermo comunque, parlando seriamente ringrazio a tutti, veramente della vostra vicinanza, solidarietà gente che mi hanno chiamato, famiglie bambini che si è messo a chiavice che mi hanno chiamato bambini, no, ma in mare tu sei il mio idolo parliamo, parliamo a scuola di te mica, non pensavo che a questo punto, fra la cosa mi gratifica molto attenzione come YouTube diciamo oltre quello che ho citato ringrazio anche Dr. Juve che dice in mare io dice sono sono un tuo caro stimatore da tanti anni infatti ha un canale già insomma vado cv sport un ragazzo che poi ospiterò a meno per esempio Dr. Juve è una persona che mi fa ridere cresce palla di calcio a meno quella vedi quelle dovete giustamente fare crescere no che lo dai che è un po' noiosissimo fatte capire io sono una persona sincera spontanea di cose giuste capito comunque Gesù diceva dare a Cesare quello che dice Cesare dare a Dio quello che dice Dio la verità è però in questo caso nel mondo YouTube e Gesù mio non è così in questo cosa guarda qua ci sono avvoltoi che gente che veramente io ho visto gente che no non so ragazzi gente che non so parlano loro già 800 miliardi di iscritti che poi dicono minchiate capito dicono minchiate ma anche i giornalisti ma parliamo di Sabatini in un minuto un secondo Sabatini che dice l'allenatore non c'è no l'allenatore cosa c'entra non è mica l'allenatore il giocatore se giocatore è scaso è scaso l'allenatore che non è che valorizza il giovane Sabatini va a Pressing pagato quindi è pagato giornalista pagato da Pressing quindi è giornalista pagato Pressing pagato YouTube fa YouTube è pagato ti rendi conto e chi lo cerchiola più fuori al sito di me ma che mondo viviamo che mondo viviamo ma che su qua guarda veramente vergognoso comunque ragazzi comunque dicevo un calvario che dura la verità è questa ho fatto un video diciamo di pancia per quanto riguarda il mondo YouTube ma il YouTube è l'ultimo dei problemi sono sincero due giorni fa ho fatto un video di pancia ripeto YouTube è un po' come quattro opzione no? perché diciamo è un calvario che dura da tre anni diciamo da quando sto la spacchì mi rinavano che successe tante cose quindi un lavoro che diciamo che non mi piace gentaglia nella vita reale e problemi di famiglia tanti problemi che ho avuto pure io insomma che non dico soltanto però problemi non vado a deltare attenzione e tutto questo dura da tre anni capito? quindi vedi negativo 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 poi metterci pure cose che si rumbo che si spacciano problemi su problemi 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 io sono una persona abbastanza forte capito? però sai trovare la serenità quando vedi tutto negativo e ti trovi nel fondo ragazzi più male di così capito? ma tante cose che ripeto posso fare un format un bare valermo racconta posso dire tutti i miei dispiacenti dalla vita e tutti i miei e i miei e i miei diciamo cose belle ho avuto pure però diciamo ripeto tre anni un periodo negativo ci sta a tutti periodo negativo ma quando un periodo può essere? un mese una settimana un mese due mesi un anno un anno due anni tre anni però c'è anche il rovescio dico sempre il rovescio della mia taglia c'è gente che sta peggio di noi c'è gente che non lavora gente poverina che sta cosa dice che poverina è pure disabile ci sono sicuramente gente che hanno molto più se io guardo quella gente lì allora io dico guarda si è vero che ha avuto tante pugnalate tanti problemi tante cose però c'è gente che sta peggio di te io già se guardo quello allora io dico guarda in effetti è così quindi youtube diciamo ripeto due giorni ho fatto quel video di pancia quel giorno lì sai quando ti ti crolla il mondo addosso per tante cose e quindi mi sono detto ma ma qua sto raccontando del mondo youtube perché ora dice tante cose negative questo è l'ultimo tassello dico ma veramente dopo 10 anni che ho 1500 1200 aspetta 1500 perché a gente si pica collora perché so faccio un video non male vabbè manco mille quando per taiugo noi parliamo quindi quello è fatto uno come me se data cese quella di cese come ha detto la ragazza indietrista ha visto a meritare ma no perché sono io perché so quanto valgo ma veramente valgo un milione ma un milione è poco capito io perché ripeto non l'ho mai trovato capito l'ecchino non l'ho fatto mai e questo fu male perché in effetti è a fare un lecchino o qualche youtube capito poi da l'ecchino a l'ecchino che lo porto al giornalista mi lecca a quello e mi infilo capito ci sono quelli che sono bravi sono scattoli io me ne accorgo subito me ne accorgo subito però alla fine zitti 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 alla fine capito è così ragazzi è così comunque detto questo il padre Palermo ci passerà questo calvario da tre anni ma speriamo ragazzi ma direttore ho saputo che ora tra poco se cangio una nave vado a un'altra nave non si capisce niente tanto bello non lavorare a terra finisco manca mi spacco il culo ma io la sera vado a casa niente questa cosa non ce l'ho da 24 anni capito 24 anni vedi che ti dico guarda quindi la verità è pure questa capito comunque ragazzi facciamo ballare le ciance facciamo i pronostici dai facciamo i pronostici scusate se il mio morale è ancora un po' giù quindi accettatemi per ora sta cosa comunque i video cominciamo a farle capito vediamo se piano piano attenzione detto questo Lucazzo segnerai con la Roma Lucazzo guarda oggi faccio il tifo per te Lucazzo faccio il tifo non ti tifo mai ma stavola faccio il tifo per te segna con la tua ex squadra segna con la tua ex squadra fai a nominare ma tu quanto mai segni comunque partite in vigore della 20 20 20 20 24 giornata ci siamo giusto ragazzi scusate se vediamo 24 giornata allora oggi sabato ore 10 sabato ore 10 sabato ore 10 cari del Lazio Roma Inter mi piace De Rossi è stato bello De Rossi fu mi piace quello che ha detto c'è l'Inter è battibile bravo si figura all'egra c'è una cosa del genere mi piace Sassuolo Torino domenica 11 febbraio Friandina 2.30 Bologna Lecce Monza Verona Geno Atalanta Milan Napoli lunedì la mia Juventus secondo l'Udinese che si deve riprendere assolutissimamente allora cartellino blu vi piace cartellino blu vergogna cartellino blu ma che è questo cartellino blu blu giallo si fate un semaforo anzi no facciamo una cosa invece cartellino blu mettete anche fate la strisce nere guarda così fate fate le cose fate le cose fate nell'azzurro cartellino guarda sei capito sappiamo sappiamo i miei motivi ma che è questo cartellino azzurro come rovinare il calcio ragazzi come rovinare il calcio guarda dunque Cagliari Lazio allora dico gollo squadra di casa segna è Cagliari un gollo fa va bene è una bella coda 1.37 ecco oggi voglio fare una schiena due faccio schiena una schiena bella bella pimpante Roma-Inter ore 18 eeeh Lucazzo segnerà Lucazzo Lucazzo figlia 18 eppure io devo fare in modo che segna Lucazzo ma Lucazzo ripeto manca un gollo con l'ex risolto tutti gli ex statisticamente segnano contro le squadre dove hanno giocato prima segna segna fai per un giorno fai top play per una volta comunque Roma-Inter x2 x2 ma può segnare Di Balla può segnare con l'Inter l'Inter Di Balla ha segnato Roma-Inter dico ragazzi x2 dai a Roma però ha vinto l'entusiasmo ha vinto con gli squadretti ha vinto quindi ora c'è l'Inter quindi dico x2 va bene quindi però magari segnala Roma di Balla sul rigore e poi pareggia l'Inter con Turam 1-1 finisce la partita x2 però forse l'Inter non so se riesce a vincere questa partita non so perché mi sento che stasera qualcosa succede poi si segna lo cazzo si segna lo cazzo segna lo cazzo guarda nel mondo dei sogni segnerà lo cazzo nel mio mondo allora poi 2-30 non ne gioco mai domenica però Fiorentina va a vincere perché ha perso una caterva di partite Fiorentina Frosinone 1-2-1 1 fisso Bologna-Lecce ore 15 1 vai Monza-Verona ore 15 1-X anzi no scusate Monza-Verona dico segna squadra di casa 1 beh sì segna squadra di casa sì un gol in Monza lo fa in casa perché una partita quella non lo so è contata un po' altina non vorrei che Verona ci fa la pastetta sai sorprese perché la sorpresa capirà sempre quindi Monza-Verona segna in Monza Milan-Napoli 1-1 mi dispiace buffetto so che forse sto cartellino blu ti piacerà a te tutti buffetti però diciamo che Milan deve vincere ragazzi in Milan è una bella cosa mi sento che Milan vince 2-1 va bene segna meravigliato vediamo e lunedì l'aumento la mia Juventus 2-0 Juventus 2-0 godi Vlaulic e dico Chiesa va bene se non gioca Chiesa giocheremo che segna McKennie Vlaulic e McKennie va bene dipendente Chiesa se gioco non gioco 2-0 quindi sarebbe un cortomuso in aggiuntiva 1 fisso dunque 7 partite quindi 12,67 10 euro su 6 vinci 126 euro va bene ripetiamo Cagliari Lazio gol squadra casa Cagliari Roma Inde X2 Fiorentina Frosinone 1 Bologna Lecce 1 Monza Verona segna Monza squadra casa 1 cioè si voglio dire Monza Verona ha detto si Milan Napoli 1 Juventus 1 poi ne facciamo una pazza mi pare fai una pazza che mi piace la pazza è guardate che pazzia 10 euro 1892 con 10 euro falla questo anche 5 euro 700 euro falla questo Cagliari Lazio 1 Cagliari Lazio 1 una quota a 350 bello 1 Roma Inde X X Fiorentina Frosinone 1 Bologna Verona 1 Milan Napoli 1 Juventus Udinese 1 Alla fine faccio un video Pendovere il pendolino ora il pendolino faccio contare prima ho detto tutte le quote e cose adesso il pendolino gira 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 ma con la gira ma con la gira ma con la gira vai 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 ti immagini che facciamo cassa facciamo il banco schiacciamo tutti schiacciamo tutte cose vengiamo di qua vengiamo di là un bario palermo andiamo a 10.000 domani mi sveglio 10.000 100.000 vabbè ragazzi comunque una cosa che posso dire sto calvario dura da tre anni negativo 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 si rompe il bicchetto tanti coppi un mondo capito però ci succede a tutti ma insomma poi ci sono quelle di meno quelle di più capito ma come si dice tutti ma è una gioia però insomma a me non me le fotte nè di minchiate ma quando sono cose proprio pesanti pesanti e poi anche io poi insomma mi nervosismo litigo con la gente infatti già con qualcuno ho litigato anche nel mio lavoro ho litigato con qualcuno e quindi che non va bene attenzione però ragazzi è così anche gli amici dicono ma ragazzi come stai ma io è un periodo che non voglio sentire nessuno ragazzi non vi prendete ora c'è youtube faccio lo sfoco però veramente poi non voglio avere ripeto cioè i miei problemi miei li voglio risolvere capito non voglio nessun aiuto nessuna cosa va bene va bene è giusto che me ne risolvo le cose mie è giusto capito a tutti a tutto c'è un rimedio tranne la morte questo è pure vero questo è pure vero a tutto c'è un rimedio nella morte ma però poi quando ci sono troppe cose negative sai poi non è più voglia non è più voglia va bene ragazzi comunque fino alla fine forza io 17 minuti di disgrazia proprio meglio che rido comunque una cosa che posso dirvi tante cose negative sai dove trovo la mia pace tu non mi crederai mai quando vado in chiesa ma non in chiesa per sé per sé quando vado lì diciamo ho tipo l'anima tutta arrabbiata per tante cose tutto nervoso sui testi vado là pare che uno lo spirito di Gesù con l'ebbrezza di quello spirito mi incalana tutto nel mio corpo nel mio cuore e pare che trovo la mia serenità la chiesa mi dà questa cosa capito quindi qualcosa di spirito cosa c'è ecco perché mi piace la fede capito questo sempre la fede è una cosa importante quindi io dico sempre convertitevi e credete nel vangelo questo sempre capito puoi imparare un personaggio che si ingazza anche nella vita reale capito ma le volte non si amano perché uno vuolsi fare opere di bene aiutare le persone aiutare il prossimo ma il problema è come si dice sono anche la gente la gente i momenti tragici tante cose che succedono quindi è una serie di cose capito è una serie di cose comunque ripeto ringrazio a tutti per la vostra solidarietà bare Palermo non abbandonare la nave va bene riazziamoci di nuovo che ci vuole ma chi era vero il film Rocky Balboa capito bisogna riazzarsi le volte quando mi chiamano pugni riazzati riazzati cos'era Rocky 5 si con Rocky Balboa le volte quando ero anziano riazzati riazzati Rocky 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 eh che ci vuole Rocky Balboa veramente ma chi del film nella vita reale sarà così comunque ci sono persone che reagiscono subito attenzione ma io ripeto avevi tre anni venire che ci fosse un giorno diciamo vabbè hai mollato sono tre anni di un galvario che non so spero che finisce prima speriamo tante cose ragazzi tante cose che mi hanno raccontato perché hai sa fare un video per ne cosa capito ragazzi vi saluto ma Mario Palermo ritrova la tua serenità non Mario Palermo Piccato Roberto Palermo ritrova la tua serenità fatti suo progetto ritrova la tua serenità copia in colla iscrivetevi al canale in Mario Palermo e pace e bene a tutti ciao 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 ciao